Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare di cavi e cavetti vari con CableTime. Azienda che si occupa per l'appunto di ab usb, cavi di ricarica, cavi di connessione, cavi hdmi, un po' di tutto. E subito dopo il jingle andiamo a vedere questi tre prodotti. Recensione lampo qua in laboratorio per questi cavi che poi andremo anche a testare brevemente per capire come si comportano e l'effettiva qualità. CableTime, questa azienda di cui vi ho appena parlato, mi ha inviato un cavo usb c usb c di altissima qualità, un cavo hdmi ultra high speed fino a 8k e 60 hertz di refresh e infine la cosa probabilmente più succosa che è questo hub 10 in 1 super veloce e con un sacco di connessioni. Iniziamo a vedere i cavi partendo dal cavo di ricarica usb c usb c. Guardate che figata. Innanzitutto questa arancione è veramente fighissimo. Il cavo è veramente molto spesso. Se vado a misurarlo col calibro plasticoso super preciso, vediamo che è oltre 5 mm di spessore, quindi super rivestimento. E soprattutto se andiamo a leggere quello che c'è scritto sopra il connettore, che è rinforzato con un guscio in metallo e con il passacavo in plastica molto molto resistente, vediamo che è un cavo usb c power delivery 3.1 fino a ben 240 watt. Ed è anche per questo che lo vediamo bello spesso, perché effettivamente per arrivare a queste potenze deve avere una certa sezione e quindi offrire meno resistenza possibile, senza contare il fatto della schermatura e quant'altro. Non credo riuscirò a testarlo come power delivery perché non ho nulla che riesca a fornire 240 watt su un cavo usb c. Tra l'altro vedete lunghezza circa un metro, ma posso fare una rapida prova per vedere se effettivamente funziona collegandolo a questo power bank e al mio S23 Ultra. La ricarica è partita 1 ora e 15 minuti al completamento della ricarica, dal 48% direi quindi che sta facendo una carica veloce. Vado a scollegare il cavo e vi faccio vedere il cavo HDMI fino a 8K. Sono prodotti diciamo un po' particolari da vedere perché anche un segnale 8K a 60 Hz diciamo che non è proprio una configurazione PC o una configurazione televisiva alla portata di tutti. Però quello che possiamo fare è andare a vedere la qualità costruttiva di questo cavo. Lunghezza circa 2 metri. Andiamo a vedere il connettore che non è che ci dirà molto però anche in questo caso abbiamo il guscio in metallo, la scritta 8K che diciamo può certificare il tipo di segnale che può essere portato e il cavo piuttosto rigido e rivestito in tessuto molto elegante e molto figo ve lo faccio poi vedere collegato al mio monitor che è un 4K a 60 Hz quindi niente di eclatante però il segnale lo dovrebbe supportare senza grossi problemi. Infine andiamo a aprire la parte succosa ovvero questo hub USB-C anche lui certificato 8K e 10 in 1 quindi 10 differenti ingressi. Se ne arriva nel suo sacchettino per poterlo anche trasportare senza rovinarlo e effettivamente è costruito molto molto bene. La scocca è completamente in alluminio, molto elegante e nella parte qua alta, adesso non lo vediamo ma lo vedremo connesso, c'è un piccolo display touch con il quale potremo fare alcune funzioni. Connettore anche in questo caso con la scocca metallica e andiamo a esaminare le porte abbiamo un USB-C power delivery da ben 100 Watt, HDMI 8K quindi compatibile anche con questo cavo, un USB-A ultra veloce e spostandoci dall'altro lato altre due USB 2.0 generiche e un altro USB-C ultra veloce. In più qua sulla sinistra ingresso per SD e per micro SD, qua sul fondo infine ingresso Ethernet quindi hub USB-C veramente completo. Anche questo prodotto per essere sfruttato al 100% richiede di una porta USB-C full featured quindi con tutte le funzioni e le possibilità di connessione per andare a servire tutte le porte. La porta USB-C full feature prevede che ci sia una connessione 3.2, ricordatevi che l'USB-C è soltanto lo standard di forma del connettore ma che può supportare diversi tipi di velocità dal 2.0 al 3.1 al 3.2. Il 3.2 per esempio supporta per l'appunto alte velocità di trasmissioni dati fino a 10 gigabit al secondo e in più le modalità alternative come per esempio il Thunderbolt o il Displayport. Quindi tramite lo stesso connettore possiamo andare a utilizzare più feature. In questo caso se connesso a una porta USB-C 3.2 abbiamo la possibilità di utilizzare tutte le porte che vi ho descritto sopra. In particolare il Power Delivery da 100W e la trasmissione video in questo caso supportata fino a 8K e 60Hz. Quindi nel caso vogliate acquistare un prodotto del genere accertatevi che il vostro computer o il vostro dispositivo supporti questo tipo di standard. Adesso vado a collegare questo PC Geekom alla presa USB-C e iniziamo a vedere cosa riconosce. Innanzitutto vediamo che si è acceso, abbiamo questo schermo leggermente opaco sotto il quale vediamo la scritta AI e il simbolino del monitor. Se andiamo a toccare lo schermo vediamo che il simbolino del monitor si spegne. Quindi con un semplice tocco possiamo decidere se far passare il segnale video o meno. Ma visto che qua in laboratorio non ho più alcuno schermo, a parte questo schermino che tengo qua per consultazione mentre uso questo PC, direi spostiamoci in un'altra parte della casa dove ho preparato una postazione dove fare qualche prova per poi andare a trarre le nostre conclusioni. Ci vediamo tra poco. Mi sono spostato da queste due scrivanie, vedete una qua con due monitor e l'altra qua dove c'è il mio portatile e un altro monitorino. Il monitorino è già collegato via USB-C al mio mini PC della Geekom. Mini PC di cui vi consiglio assolutamente andate a vedervi il video perché è un mini PC, è grosso come due pacchetti di sigarette ma è veramente una bomba. Detto questo sono qua con due prodotti in mano, il cavo di ricarica USB-C che supporta Power Delivery fino a 240 Watt e soprattutto questo Hub. Hub anche lui USB-C l'abbiamo visto poco fa, adesso vado a collegarlo al Geekom e andremo a provarlo anche insieme al cavo HDMI. Mi raccomando eh, o HDMI tutto in italiano o HDMI tutto in inglese, non andiamo a fare HDMI che suona un po' maluccio. Detto ciò andiamo a fare le nostre prove. Intanto da questa parte troviamo un monitor Samsung 4K 60Hz e un KTC anche lui da 32 pollici 2K che però arriva fino a 144Hz. Purtroppo non riesco a testarlo con un 8K, sarei ben felice di avere un televisore 8K in casa però per questa volta ci dobbiamo accontentare. Vado a collegare l'Hub. Il cavo HDMI l'ho collegato al monitor KTC anche per praticità, ve lo faccio vedere così da questa parte. Vado adesso a collegarlo tramite l'HDMI alla porta diretta del PC senza passare attraverso l'Hub. Ed ecco che si è acceso. Monitor KTC di cui tra l'altro anche in questo caso trovate la recensione sul canale ed è un monitor da 32 pollici che costa veramente poco. Curvo, raggio di curvatura 1500 quindi non esageratamente curvo. Vi dico io riesco a utilizzarlo tranquillamente per l'utilizzo con CAD. Andiamo a vedere risoluzione e frequenza di aggiornamento. Seleziono il monitor 2 che è questo. Andiamo anche ad attivare l'HDR. Risoluzione scelta consigliata 2560x1440 per l'appunto 2K. Impostazioni schermo avanzate. Frequenza al momento impostata a 60 Hz. Andiamo a vedere, vedete che la frequenza più alta supportata è 143.99 quindi 144 Hz. Proviamo a cliccare qualche secondo e vedete che ricompare la schermata. Manteniamo le modifiche, purtroppo facilmente non si riesce a capire dalla camera perché la ripresa è quello che è e soprattutto riprendo a 30 frame al secondo mentre il refresh è di 144 Hz. Però dovete fidarvi e vi dico che la fluidità è veramente pazzesca a 144 Hz. Quindi risoluzione ovviamente supportata perché saremmo arrivati addirittura fino a 8K con questo cavo, 144 Hz supportati. Adesso stacco il cavo dal PC e lo vado ad attaccare all'hub di CableTime. Stacco il cavo da qua, vado a connetterlo nella porta, anche lei certificata fino a 8K e vediamo se anche col passaggio all'interno del hub riusciamo ad arrivare a 144 Hz. Torniamo sulle impostazioni schermo. Il monitor è diventato questo qua. L'HDR l'abbiamo già attivato. Impostazioni schermo avanzate. In verità è rimasto a 144 Hz già da prima, per cui si è accorto che lo schermo è lo stesso, anche se passando attraverso la dockstation e anche in questo caso riusciamo ad arrivare alla frequenza massima di aggiornamento. Una cosa molto interessante, come vi dicevo, è che questo qua è uno schermino touch. In verità non è proprio uno schermo, però se vado a cliccare qua sopra, a toccare col dito, vedrete che si spegne lo schermo. Perché, avete visto, abbiamo la possibilità tramite questo interruttore, chiamiamolo, di andare proprio ad attivare e disattivare le uscite video. Schermo riattivato, io direi a questo punto, con tutte queste informazioni, andiamo a trarre le nostre conclusioni. CableTime, azienda che, se andrete a vedere sul sito, trovate tutti i link qua sotto in descrizione, realizza principalmente cavi, dockstation e apparecchiature di questo tipo. I tre prodotti che l'azienda mi ha mandato, ovvero il cavetto USB-C per la ricarica, la dockstation e il cavo HDMI, devo dire che sono veramente di altissima qualità. Si percepisce sia dai materiali che visivamente proprio sui prodotti stessi. Materiali di qualità molto altra e anche l'assemblaggio veramente ottimo. In più, se vogliamo mettere, io direi anche un ottimo design. Questo colore arancione è veramente fighissimo. Per cui vi consiglio, per l'appunto, di andare a fare un giro nel link che trovate in descrizione. Se avete bisogno di cavi, se avete bisogno di dockstation, hanno prodotti anche molto più complessi e completi di questo. Ho visto, per esempio, delle docking station che hanno anche la possibilità di andare a inserirvi all'interno un SSD. Per cui, vastissima scelta, qualsiasi tipo di cavo lo troverete. C'è un catalogo enorme. Detto questo, non mi resta che passare alle raccomandazioni finali. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere neanche un video e neanche un episodio. Anche per oggi, da Andrea e da Sixty Seven Lab è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!